La Roma è quella annunciata, anche se c'è qualche spostamento di numero. Il numero 3, Nela il numero 4, Falcao 5, Maldera 6. In avanti è di Ernst la rovesciata di Oddi. Falcao, attaccato da Rude, Conti, Falcao, Riprecini, ad esempio, il polacco Tomacevski. Manovra Falcao. Ha scambiato con Graziani, palla in area, il colpo di testa tedesca, il colpo di testa di Nela. Con palla verso Falcao, spinto alle spalle dall'intervento di Bax. Calcio di punizione, ha già battuto Falcao verso Nela, che entra in area e attacca... Falcao. Maldera. Falcao. Di Bartolomei, che riesce a mandare al centro il pallone. Elegantemente Di Bartolomei fuori area. Falcao. Partita iniziata a gran ritmo. Fallo su Falcao, compiuto da Rude, calciare i danni, se danni dovessero esserci nella partita di andata. Serezo, viene in avanti, Falcao. Ancora Serezo. Cross di Serezo. Fruzzo, verso Falcao. Per Graziani. Falcao. Non trova sbocchi, Falcao sulla destra, si riporta al centro dove trova Serezo. Ancora Falcao. Strettissima la marcatura da parte dei tedeschi. Di riuscito male. Favorire l'inserimento di Falcao. Maldera ancora verso Falcao. Serezo. Lancio in area il colpo di testa di Trilov. Poi Terlecki ha disimpegno su Greter. Ha servito Falcao. Molto arretrato, ma riprende Falcao. Preoccupazioni per il fuorigioco. Falcao preferisce mandare in avanti Oddi. Falcao. Maldera. Conti. Falcao. Falcao. Verso Conti. Difende la... Un malinteso fra i difensori. Rimedia. Riprende Falcao. Maldera. Fermato Ernst dall'intervento di Maldera e Falcao. Conti Falcao. Spalla contro spalla. Rode va a terra. Ancora Rode su Falcao. che si libera della palla lanciando sulla destra Oddi. È in ritardo Oddi rispetto... Disimpegno su Conti. Va via molto bene Ernst. E' in ritardo di Falcao. E' in ritardo di Falcao. Conti che si sposta dalla... E' in ritardo di Falcao. E' in ritardo di Falcao. E' in ritardo di Falcao ad impedire un tiro pericoloso di Schultz. Poi sul colpo di testa di Tom. C'è il disimpegno definitivo della Roma che ha corso qualche rischio in questa azione. Con calcio di punizione battuto dallo stesso Conti e viene in avanti Falcao su Sereso. Righetti, Graziani di testa verso Falcao ma arriva prima troppa di Tom. La Roma vuole effettuare la sostituzione ma l'arbitro non vede lo sbandieramento del guardaline. Quindi Oddi rimane in campo, Nappi rimane fuori. Mentre di Bartolomeo, di Tancredi, Righetti, Falcao. Conti. Ancora Falcao. Conti. Ora vediamo Falcao, ha ricevuto da Sereso. Chiama in avanti Nela. Colpo di testa. Va a terra Terleschi. Vantaggio. La palla è rimasta ai tedeschi. Se ne è in possessa Falcao. Nappi. Oddi. Oddi. Panchina. Per dire di aspettare per la sostituzione eventuale. Sostituzione che non è avvenuta anche durante l'intervallo. Quindi la Roma è nella formazione iniziale con Oddi, con il numero due in campo. È iniziato adesso il secondo tempo. È 0 a 0. La Roma è alla sinistra dei nostri teleschermi. Attacca la squadra tedesca con Ernst. Controllato da Falcao. Ernst ha portato la palla oltre la linea di fondo. Anzi, era già uscita lateralmente. Ha rimesso in gioco. Verso Falcao. Di Bartolomei. Spiove in area il pallone di Di Bartolomei. Colpo di testa di Pruzzo. Di Bartolomei. Di Pruzzo. Fermato. Falcao su Conti. Da Falcao. Calcio d'angolo per il sesto calcio d'angolo della Roma. Il secondo della ripresa. Ecco l'ho battuto. Cross di Conti. Velo. Sul rinvio di Righetti. L'attacco impostato da Falcao su Chierico. Parte finalmente Chierico in attacco. Pruzzo appoggia su Falcao. Chierico. È molto Schultz. Terlecki. Ecco l'anziano giocatore. Cerca lo scambio con Tom. L'ha trovato. Raddoppia la guardia alla Roma. Ed è Nela che ferma l'avversario. Va via molto bene Ernst. Fermato da Sereso. Atterra sia Sereso che Ernst. Sembra più grave il giocatore. L'applauso saluta Sereso che riprende il gioco. Il dottor Alcicco riprende posto in panchina e la partita riprende. Il lancio di Falcao per Graziani che si sposta sulla destra. Roma. Sono tredici minuti del secondo tempo. I Conti Palo Di Schultz. Che ha commesso pallo di mano portandosi la palla in avanti. Già battuta dalla Roma la punizione. Fermato a Chierico rimanda in avanti Nela. Su Falcao. Chierico. Ernst fermato da Falcao. Chierico ancora sulla destra. Siamo quasi al diciottesimo minuto. Palla a seguire Falcao. Graziani. Il colpo di testa di Righetti. Falcao. Evita l'attacco di Ernst. Su Chierico. Ancora Falcao da Chierico. Ancora Falcao. Sempre da Chierico. L'azione sulla destra. Di Bartom. Conti. Il cross. E prima del possibile intervento di Falcao. Rode in calcio d'angolo. Non è fermato Conti dal solito Ratt. Riprende la palla Falcao. Seresso. Alla meglio Tom. Tom. Falcao. Chierico. Arriva anche Nela. Chierico preferisce stringeri al centro. Pruzzo fuori gioco. Pallo su Chierico. Ha battuto la punizione. Falcao. Pallo. C'è un fallo su Falcao che ha commesso Rode e c'è un incidente a Falcao. Righetti di testa. Falcao. Serve inavvertitamente Ernst. Ernst tiro fuori. La partita vive in questa seconda parte della ripresa. I momenti più in coerenza anche questa volta. Terlecki. Al calcio di punizione. Ribatte la barriera Falcao precisamente. Troppo ha teso il faro laterale. Terlecki. Da Nez. Che fa così il suo ingresso in partita provocando un calcio di punizione alla sua squadra. Quindi Nez al posto di Tom. Nez porta il numero 15. Non vedrete più il numero 11. Falcao. Colpo di testa di Righetti. Falcao. Conti. Falcao. Entra anche Pruzzo. Continua ad insistere alla Roma. Un colpo di testa di Maldera. Uno di Greter. Va a terra Schull. Dera e poi da Righetti. Azione pericolosa da parte dei Tadini. Mese in gioco Falcao. Quattro minuti alla fine della partita. Falcao sulla palla. Ecco la palla in area. Chierico. sulle spalle di Nez. Gioco fermo e calcio di punizione in favore dei tedeschi. che in attacco la squadra tedesca mostra di non essere poi tanto leggera. Ha giocato tutta la partita in difesa. Sempre di testa. Graziani all'indietro. Falcao appogge su Chierico. Falcao subito al centro. Pru già oltre il novantesimo. Chierico. Ed ecco il fischio finale dell'arbitro Keiser. La fa un vantaggio abbastanza rassicurante sul quale impostare la partita di ritorno fra 14 giorni a Berlino. Certo in Germania orientale.